presentiamo la serie due Giulio Gambarotto alla uno Davide Agnolina alla due Lorenzo Bruseghina alla tre Luca Malievis alla quattro Tommaso Zuina alla cinque Lodovico Gnero alla sei Francesco Marega alla sette Lorenzo Pilone in otto quindi ci avviciniamo è sempre di più alla prima serie quindi si scende con i tempi 25 99 è stato il passaggio di Lorenzo Ceci in corsia cinque Edoardo Messa Messa a cinquantacinque e trentadue Lancerini cinquantacinque cinquantasei